Ciao Walter, cosa stai facendo? Ciao Linda, sto girando un video per il Vertical Movie. Che cos'è il Vertical Movie? È il primo festival internazionale di cortometraggi realizzati nel formato verticale. Su che tema lo stai girando? Sul mondo del sociale ho scelto infatti di partecipare alla sezione Vertical Care. In palio un monte premi di 2000 euro, 1000 andranno al vincitore, gli altri 1000 invece saranno devoluti in beneficenza ad un'organizzazione sociale individuata dal primo classificato. Interessante, ma in che senso sociale? Guarda qui! Grazie a tutti! Davvero bello! Ma come faccio a partecipare? È semplicissimo, basta andare sul sito www.verticalmovie.it e caricare il proprio video nella sezione dedicata.